sono giapponese proviamo io 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 ma allora fa la tutta se la devi fare la faccio? davvero? cosa farla? perchè sei emozionato? allora cambiamoci di posto poi tagli dai una cosa figa per favore dai vieni una cosa figa ti sei spostato prima magari eravamo in posizione giusta così sono buona prima la faccio io allora io 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 bella raga sono dark e benvenuti sei dark effettivamente sono dark e benvenuti in questo nuovissimo video su clash oggi siamo qui come potete vedere ho il cappello perchè raga spiegami perchè ho il cappello 5 secondi per dirlo 2 secondi è stato davvero bravo abbiamo visto che lo scorso video mi è piaciuto non volevo dire poco e tanto però è venuto fuori poco abbiamo visto che non ti è piaciuto tanto di più raga quindi sotto vogliamo il solito più supporto di prima raga che così ci tiriamo a pizze tantissimo dopo sai mi stai fermo dobbiamo ancora iniziare ad attaccare e quindi raga lasciate già subito sotto mi piace e scrivete con quali attacchi strani potremmo fare perchè possiamo fare tanti attacchi strani esatto più sono bastardi più fa a cagare le truppe più io vinco più lui mi tira le pizze allora come potete vedere ho maxato un po' poi maxato ci ho provato no perchè non è che abbia giocato tantissimo ultimamente e ho tenuto il municipio per ultimo questo perchè 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 io volevo aspettare e quindi portiamo il municipio a livello 3 ecco tutti i soldi che se ne vanno i big money però allora tanto c'è la partner che li fornisce eh infatti allora abbiamo gli obiettivi che ne ho completati due migliori un deposito d'oro fino al livello 2 mai fatto prima richiediamo la ricompensa grazie per le due gemme ehm Salvini thanks dolce vittorio ottieni un totale di 75 trofei nelle battaglie multigiocatore fatto richiedo grazie per le 5 gemme Salvini ora sodados e adesso cercheremo il nostro attacco guardiamo le truppe che ho fatto l'altra volta non mi ricordo già 15 arcieri 15 barbari buono sei fottuto facciamo attacco oh lo scudo attivo attaccando e disattiverai scudo gli altri giocatori potranno attacchi se non attacchi 20 schiaffi no no va bene ok no dai 4 mila delizio però eh non tutti c'è la nera no va bene ma io l'attacco è difficile no è difficile c'è il mortaio ma il mortaio basta che butti qui io ci provo c'è il mortaio è uno schiaffo è uno schiaffo ci proviamo mi fai male però se vi se oh devo farne 3 di stelle impossibile 1 2 3 4 5 io attacco vai adesso subito dietro con gli artieri e' zain e' zain e' zain si ma quello li cosa fa quel mortaio mi incule ecco cosa fa ecco lo so è già finito vai raga fotte una storia del mortaio è la cosa peggiore che c'è ai primi livelli infatti io non so neanche perchè l'ho attaccato voro darti questa soddisfazione personale me la stai dando o a due stelle pari a due stelle pari niente è uno schiaffo schiaffo vabbè cazzo mi uccide lo so no ma non li fa niente dai andate da un mortaio a stronzoni eh ma non li fa da uno no mi distrugge e non ce la fai ad arrivarci te lo dico io ce la fai se distrugge il barbara no al municipio no oh ma cosa sta no e' i miei barbara no si tu e' i barbara si no e' corretto distruggetti il frutto no uno di vita dai arriva il mortaio si ma no ma no si ma loro vanno dalla casa molti deficienti attacca gli arcieri ammassali no si che risultato vai gli altri dai non fa due stelle un barbara da solo così niente non ce la fa almeno proviamo a prendere a vincere così prendiamo una stella dico lo schiaffo me lo prendo giustamente termina battaglia semi vai asperti fa la moto ma è il primo si faccio la moto che me lo devo fare dai sei stronzo però è il primo potrei tirarlo almeno piano allora io porterei un cannone a livello 2 ci vuole un quarto d'ora allora aspetta che ho cambiato un attimo no devi fare le truppe le truppe eh devi fare le truppe allora non ho messo le mura perchè penso di metterle diciamo al prossimo episodio le metterò sicuro perchè avrò un villaggio appena più grande ora mi sembravano abbastanza inutili anche perchè se guardate registro degli attacchi che mi han fatto potete vedere che comunque la tua difesa ha perso ha perso però ha anche vinto inspiegabilmente però ha anche perso però non è che me ne fregasse poi così tanto comunque dato che non è che ti ruba in grosse quantità i primi livelli allora io direi stavolta di farmi qualcosa di più serio due giganti eh c'è giganti puntare 25 quindi 15 arcieri 5 barbari costano 3 gemme accontentiamo salvini e facciamo per 4 gemme già il prossimo attacco quante ricerche lo impareremo allora stavolta voglio andarci giù pesante con semi una ricerca quindi uno schiaffo due schiaffi oh però due schiaffi sicuri sarebbero per semi eh se non fai far passare ma io due sbarri ieri tirerei ma dai però su un buono 3 schiaffi no 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 vi ricordo che il limite è 5 quindi siamo a 3 schiaffi 4 quindi se il prossimo se il quinto un pro sono fottuto io 4 schiaffi eh però sono un po' difficile c'è le mura un po' difficile ma non puoi abbeccare eh ma c'è due due canoni qua a manico al quinto non puoi abbeccare l'impossibile si 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 ah eh 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 ci fai schiaffi non so per me no no sai benissimo lo sai benissimo mi dispiace che non prendi un cazzo di risorse però raga gli schiaffi e semi sono schiaffi e semi eh sapete bene anche voi si parola da piano forte me lo userei tutte le truppe giusto per fare un po' nooo mi sei squirato del cannone al 2 ma stai c'è gigante c'avevi c'avevo no ti prego stai vedere che ho fatto la stronzata più grossa della mia vita oh mio dio nooo ti giuro Gesù ti vuole bene non l'ho visto nooo ti prego ammazzalo nooo si ti prego ti prego ammazzale tutte ammazzale no vabbè ma c'hai 30 arcieri che cazzo c'entra ti devasta diventano due arrivare lì sono due ti prego no ce la faccio hai creduto per un po' eh ah io ci sto credendo io no aspetta dipende come va l'attacco eh no ma ce la faccio stai vedere che andar bene l'ultimo che attacca ma aspetta che guardiamo che noi abbiamo messo poi i casi qua perchè sai com'è sono nabbi però alcuni li mettono altri no no hai vinto vinto si vinto dai comincia già a tirarmeli io direi dato che questo qua è un video originale vogliamo renderlo il più originale possibile almeno quindi più like lasciate più sarò anche originale prossime volte uno schiaffo io lo tiro normalmente uno con la ciabatta e poi vediamo se trova no con le mani ma no ma fa meno male con la ciabatta no con le mani eh esatto ti ricordo uno sceglie la penitenza uno sceglie come lo schiaffo cioè io lo posso scegliere ah va bene quindi il primo era questo inaspettato più bello eh il secondo oh c'è una ciabatta sotto piede guarda che culo no semi eh non ti puoi parare però dai no semi se ti parti ti puoi parare un altro schiaffo giusto eh semi però così serve un altro sai sai com'è dai dai è proprio male un po' il colpo di frusta mi fai paura te aspetta che lo devo rifare dai no dai no ma è terzo questo è terzo terzo eh tira via quella roba questo vale come schiaffo terzo fatto eh sono un po' crudele lo so però lui farebbe lo stesso come pensate a questo la ciabatta ci avremmo pensato si ma fa meno male quella ciabatta per l'amore del cielo samuele stai calmo e uno con la cover per essere un po' più però aspetta come con la cover fa problema fa male con la cover eh semi scusa scusa sam non volevo usare il colpo di frusta ma hai costretto tu ma hai costretto fa malissimo e lo so che fa male fa male l'ultimo a meno piano l'ultimo piano ma hai fatto scusa scusa sam è mai partito non volevo così forte sei posto sei posto è la vendetta questa è vendetta è vendetta sei al 5 vecchio un prodotto no raga voi pensate questo voi adesso direte dark sei un crudele del caso lui farebbe peggio no ve lo dico eh tu faresti peggio no no sappiatelo no sapete chi ha visto l'episodio precedente sa come è andata a finire io ancora lo sa lo sa loro sa tu no comunque salvini non ci sta dicendo niente facciamo prima una missione per salvini ora aspettiamo che semi un po' si riprenda ma povero sento le vene che eh non ho fatto apposta facciamo l'obiettivo che ci ha chiesto salvini quello di attaccare un villaggio e vini no solo se perdi non vagono eh ma l'avevano detto che ero uno schiavo va bene se perdo sono uno sberla ok come vuole e ci portiamo a casa anche questa vittoria ma potevi usarlo per l'ultimo attacco eh potevi usarlo no adesso è l'ultimo attacco richiede ricompensa io la richiedo perfetto adesso raga ci dobbiamo fare le truppe per l'ultimo attacco io mi prenderei un solo gigante e semi sceglie le altre truppe vai semi ok 24 barbari 24 barbari ma aspetta se hai quelli rimanenti se tutti i 25 barbari allora perfetto gemmiamo perchè così salvini è contento si riprende indietro le gemme che gli abbiamo dato avete capito lui la pensa così ci da le gemme ma sa che dopo noi lo finanziamo io direi di mettere a fa la caserma tanto e l'altro vabbè l'altro gemmiamo 38 gemme col cazzo infatti alla prossima settimana faremo vedrete già un nuovo villaggio troviamo la partita l'ultima partita un attacco 500 troppo poco siamo due schiaffi siete pronti oh no 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 ho per due schiaffi si lo faccio troppo poco ma un gigante 25 barbari troppo poco no ma che sono spero che l'arcene te lo disfi buttali tutti qua dai li ho buttati pure la cazzo di cani i barbari non puoi dire che non ti sto favorendo ma dai ma questo è vincere il focci e raga so che sto facendo la cosa sbagliata perchè se lui se io se lui se io perdo lui dopo fa di peggio con me voi lo sapete intanto attenzione che il gigante ma vinci per forza il gigante ad esempio è morto questi idioti al posto che andare dal cannone sono masochisti ma vogliono farlo sì ma adesso vedi come calano vedi guarda come calano ho visto un po' adesso allora ora è andato da un gruppo è andato da direzione giusto all'altro usate del che dopo attenzione per la prima volta se mi si beccano della meglia adesso no si dà quando meno tra i manatori dimmi che c'è io ok una data moratori dimmi che c'è io questo è un pezzo di meron un pezzo di merda perchè è colpa sua se questo villaggio è una merda capito capito acqua curana da finca quell'altro velocemente come quell'altro non me ne accorgo dai ma quasi dai dammela adesso veloce no è che sto pensando con cosa tirarti no 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 con le mani con cosa hai paure adesso no che c'ho io il potere in mano no no e nello scorso video c'ero io ero io quello che mi stavo cagando sotto ma ti pare far soffrire così ora senti come ci si sente ti potrebbe arrivare una sberla da un momento all'altro pensa quanto io nel prossimo ma ma scusa non ho fatto apposta la vendetta dello scorso nel prossimo episodio ne vedrete delle belle ma se becca cioè se perdi è morto cioè c'è la faccia il canale me lo prendo io allora raga speriamo che il video vi sia piaciuto questa volta ha preso solo semi per grazie di cristo tranquilli che più andranno tranquilli andremo avanti tranquilli che più avanti andremo gli attacchi saranno sempre più difficili e li prenderò tutti io quindi io mi sto mettendo avanti perchè poi soffrirò io già lo so ah e siamo arrivati a 420 like nel video adesso dobbiamo arrivare a 500 ci proviamo raga lasciate tutti quanti voi dovete lasciare sotto mi piace per supportare la serie e quindi nulla noi quello che dovevamo dirvi l'abbiamo detto l'abbiamo fatto anche ma questo qua è la fine dei vistori youtube perchè? quello che volevo dirvi no non l'ho mai dire e quindi nulla raga noi come sempre ci vediamo alla prossima con un prossimo video e nulla da dark islami è tutto bella ciao ciao